Buonasera, entrate, io non posso uscire, sono agli arresti domiciliari, questa è via dei piatti numero 8 quarto piano e questo è il minuscolo appartamento nel quale vivo da 16 anni in affitto, un appartamento che non avrete grande fatica a percorrere perché è fatto di poco più di tre stanze. In questo punto mi tolsero le manette il 17 gennaio 1984, ero uscito da questo appartamento il 16 giugno 1983 come un libero cittadino, nel frattempo ci sono stati sette mesi di galera, due a Regina Celi e cinque a Bergamo. Oggi ha gli arresti domiciliari che a qualcuno paiono così comodi, quasi la libertà, è come dire che un malato è quasi ormai guarito e ha i confini della salute. Parleremo di questo ma via dei piatti numero 8, titolo del programma, intende essere proprio un'occhiata autentica su quello che è stato definito il covo, il centro di questo curioso personaggio che si è visto trasformare da Dottor Jekyll in Mr. Hyde, in mostro, da una stampa spesso irresponsabile e impietosa, da una televisione di Stato che definire in alcune occasioni ignobile è poco. Allora un'occhiata intanto a questa vita di quest'uomo che qui aveva e ha ancora il suo salotto, non ho mai ricevuto gente della cosiddetta buona società o del bel mondo, pochi amici scelti con i quali parlare di libri che sono forse il mio più profondo e autentico amore. Il mondo dello spettacolo, no, non ho mai giocato a carte, so giocare a 7 e mezzo, non è come molti, rivelando un mezzo calzettismo senza precedenti, il mondo dello spettacolo tutto omogeneo. Non è che si incominci il mattino giocando a tennis con Adriano Celentano, no, io andavo a letto alle 8 e mezza, 9 di sera, per quanto vi appaia incredibile, una vita monotona come quella di un pendolo. Davo un'occhiata ai giornali, amo essere informato, ne ho lette di cotte e di crude e poi forse le radici napoletane, una corsa dal mio barbiere di fiducia. Ma io lo conosco da 14 anni. Quante volte veniva? Ma quasi tutte le mattine. E cosa faceva, come si comportava? Ma veniva con un sacco di giornali, si sedeva, aspettava il suo turno e poi si serviva e andava. Angelo veniva solo, torto o con qualcuno? Ma solo, appunto con i suoi giornali perché non aveva sempre tanti. Senta, riceveva telefonate? No, mai. Lei da quanti mesi non lo vede? Giusto dal 17 giugno. E lei se lo ritrova, questo suo amico, cliente, sui giornali, quando lo vede come camorrista, come spacciatore di droga? Ma io non ci ho mai creduto, non ci vedo ancora adesso. Per me è una cosa assurda, una cosa che non esiste, insomma. Angelo, senta, ma io oltre che non crederci, lei se lo immagina, lo vede? Cioè vede in questo momento che veniva da lei tutte le mattine il camorrista? No, no, perché è troppo naturale, cioè è sempre stato tranquillo, normalissimo tutte le mattine che veniva qui, cioè non ho mai visto qualcosa di diverso. Senta, lei in 14 anni con Tortore avrà vissuto tante cose, ce n'è qualcuna che ricorda particolarmente? Ma ricordo solo una cosa che mi è rimasta molto impressa, perché c'è stato un periodo di tempo che si serviva e scappava. E alla fine ho scoperto che andava tutte le mattine all'ospedale dove c'era una ragazza, una ragazza non so se si chiamava Silvia, e no Stefania si chiamava, e le portavano a mangiare, ho scoperto quello. Ecco, l'ultima barba me la fece Angelo, poi presi l'aereo, andai a Roma, dovevo presentare proprio per Rete 4 Italia Parla, le elezioni erano imminenti, ero in via Lucrezio alla sede di Rete 4 a Roma, quando nel pomeriggio, mentre stavamo parlando della imminente trasmissione, arrivò un'ansa, anzi mi telefonò un collega, non posso nemmeno più chiamarlo collega, perché mi hanno sospeso dall'ordine dei giornalisti, insieme alla libertà mi hanno tolto anche la professione. Mi chiamò dunque questo ex collega e per telefono mi disse, qui c'è un'ansa singolare, dicono che nel corso di una grande retata hanno arrestato Enzo Tortola, ci mettemmo ovviamente a ridere tutti, io penso che avreste riso anche voi, e risposi, ricordo quello che Winston Churchill rispose quando un giornalista inglese diede notizia della sua morte, temo, risposi sorridendo, allora amavo ancora sorridere, che la notizia sia stata lievemente esagerata, facciamo il nostro lavoro, la sera andai a cena, credo in una pizzeria davanti a questo albergo dove scendo da circa 20 anni, albergo sul quale si è anche favoleggiato, perché naturalmente dopo i fatti tutto diventò mitico, favoloso, tenebroso, dissero per esempio che mi arrestarono mentre ero a letto con due negre, dissero poi, anzi corressero, che non due negre, ma un negro era il mio compagno di Tallamo, mi sembra un omaggio eccessivo al terzo mondo, anzi dovrei precisare che non ho mai fatto questioni di razza, soprattutto per il gentil sesso, ma a proposito di queste infamie che grandinarono su di me, ne parleremo nel corso di questa chiacchierata, nella notte le 4 e un quarto circa, intesi alla stanza che occupavo da tanti anni e nella quale ero ovviamente solo, intesi dei colpi come felpati, come attutiti, infatti non riuscivo a collegare, stavo sognando se facessero parte del sogno o se fossero una realtà esterna al sogno, i colpi diventarono più forti, allora dissi chi è, intesi delle voci, mi alzai, ero in pigiama, apri la porta, carabinieri mi dissero, allora io incominciai a collegare l'assurda notizia del giorno prima con la cruda realtà di quel mattino, feci appena a tempo a controllare sull'orologio, carabinieri, perché? Irruppero nella mia stanza, si misero immediatamente a frugare qua e là, aprirono le valigie, ricordo ecco sì, avevo acquistato un porcellino di ceramica, un salvadanaio che mi ricordava e volevo proprio portarlo a mia figlia per questo, un salvadanaio che quando era bambina questa mia figliola Silvia aveva avuto in dono e aveva tanto gradito e forse poi col corso del tempo rotto, smarrito, bene si buttarono su questo porcellino, cominciarono a scuoterlo violentemente, come se volessero farci uscire chissà che cosa, io non capivo che cosa cercate, niente, niente continuavano a dire, buttavano all'aria i miei abiti e levarono il tappo da questo salvadanaio e incominciarono ancora una volta a scrollarlo, non comprendevo assolutamente niente, proprio ero in uno stato di narcosi direi, come se fossi stato sotto cloroformio, mi dissero ci seguo immediatamente e che cosa devo fare, non mi era mai capitata un'avventura di questo genere, prenda un po' di roba, un po' di siquanta, è quella che può servirle, ma dove mi portate? Non lo sappiamo, abbiamo soltanto la disposizione di portarla con noi, scesi in ascensore, passai davanti al vecchio portiere di notte che mi aveva visto salire o scendere per tanti anni, ricordo quest'uomo a capochino che disse o mormorò, mi dispiace, fui messo in una macchina e a grandissima velocità, intanto Roma era ancora immersa nel buio e nella notte, fui portato a via Selci, a un comando di carabinieri dove c'era già un immenso andirivieni e cheggiavano dei nomi che non avevo mai sentito, un funzionario o un carabiniere, non mi pare fosse in divisa, mi disse abbiamo un ordine di arresto per lei, lo guardai con gli occhi sbarrati e dissi, ma deve essere senz'altro un caso di omonimia, deve essere senz'altro un equivoco, deve essere senz'altro una follia, no, è lei mi dissero e caddi, immagino possiate capire la situazione che prova un uomo preso a laccio, improvvisamente, senza alcun sentore di quello che eventualmente avrebbe potuto commettere, sentivo nomi napoletani, nomi che perlomeno avevano una desinenza meridionale, associati al mio, senti e provai soprattutto di tutto, mi senti il cuore che mi balzava in gola, non dico alla gola, ma agli occhi, al cervello arrivò e senti proprio pulsare dentro di me come un martello, questo martirio che ritenevo si sarebbe risolto in poco tempo, invece durò perché dura ancora e sta durando ancora. Bene, dissi dove mi porterete? Mi guardarono come se avessi detto una bestialità e mi risposero a Regina Celi, Regina Celi io questo nome l'avevo sentito con un vago senso di angoscia tante volte, come chiunque abiti a Roma, l'avevo letto nelle cronache giudiziarie, delle quali non ero peraltro un accaneto lettore, la mia attività si riferiva ad altri settori, a Regina Celi e mi metterete chiesi le manette? Certo, mi dissero, le metteremo le manette, ma non me le misero, capì che occorreva attendere ancora e qualche cosa, che non riuscivo a capire che cosa fosse. Intanto nomi camorra incominciavano a vorticare in una giostra ignobile intorno a me e mi aggiravo stupito come un imbecille, come una persona che non sa più quale sarà il suo destino, non sa più che cosa dire, come comportarsi, sa solo una cosa, di non avere nulla alle proprie spalle. Bene, capì perché bisognava attendere, capì perché bisognava aspettare, sentivo delle voci fuori dalle finestre della caserma, sentivo che si andava addensando un gruppo, un gruppetto, poi un gruppone di persone che urlavano i fotografi, facciamo i flash, tutto è pronto, non è ancora arrivata la macchina, che macchina? Dicevo, la macchina dei carabinieri ci fu un silenzio, era un'altra macchina, era un'altra macchina che arrivò forse quando gli operatori erano comodi, forse quando era giusto sindacalmente che si svegliassero, era il carro della televisione italiana, quella televisione alla quale ritengo di aver dato pure qualche cosa e forse anche qualche fastidio vorrei ricordare, perché nel 1969 fui brutalmente allontanato dalla televisione di Stato per aver sostenuto da solo, vorrei ricordarlo, attorno a me c'era il deserto, che un tipo di informazione unica, quello che allora disonorava il nostro paese, senza altra voce alternativa, era una insufficienza molto grave per un paese democratico, fui buttato fuori con due telefonate, ma questo è un piccolo particolare, nel 1969 e allora cominciò quella che secondo alcuni pennaruli, gazzettieri, mezze calzette della pubblicistica, venne definito il periodo oscuro di Tortora, fu il periodo in cui lui si batté per la libertà d'antenna, fu il periodo in cui lui solo incominciò a creare prima col caso di Telebiella e della televisione via Cavo, il problema oggi diventato legge della mia e della vostra Repubblica delle televisioni private, allora quelli erano anni oscuri, secondo Costoro in questo periodo io buttato fuori dalla televisione, io Tortora con il mio animo, la mia educazione, il mio senso della libertà avrei dovuto presentarmi proprio perché cacciato via dal carrozzone di Stato, da Cutolo dicendo eccellenza, siamo qui a disposizione, a questo si arriva e si è arrivato, delirando a proposito della biografia immaginaria di Tortora, ma vorrei ritornare al racconto, quando tutto fu pronto, quando lo squartamento pubblico fu approntato, quando arrivò il boia con la cinepresa, io vidi che il carrozzone era stato fatto sadicamente sostare a molti metri dalla porta della caserma, di modo che l'uomo in manette comparisse in tutta la sua impietosa evidenza e ricordo ancora dei, mi ripugna chiamarli colleghi, degli uomini che affannosamente gridando il primo piano, il primo piano volevano cercare e inquadrare i polsi, che io non nascosi come non nascondo adesso, perché se le manette non ci sono, la detenzione continua, quando ebbero completato il loro pasto di avvoltoi fu introdotto in un'altra macchina e in mezzo a grida tremende, ricordo Mascalzone, assassino, camorrista, hai rubato, era giusto che finissi così, un linciaggio verbale che io attraversai con un'angoscia, con un gelo infinito, ricordo sullo sfondo, ecco sì, c'era una donna, forse solo una che piangeva, messo in una macchina che partì a velocità di razzo, con sirene ad altissimo volume, passamo rossi, verdi, gialli ai semafo e arrivai a Regina Celi, salì i famosi tre scalini che i romani conoscono, entrai in questo pianeta della disperazione e del dolore che fino allora avevo soltanto evocato in qualche momento di incubo, non sapevo che cosa fosse la galera, cella numero 16 bis, un grande rumore di chiavi e fui buttato dentro, c'erano sei uomini, alcuni tatuati giovani, c'era uno più anzano di me, un eritreo e ci fu subito un gran silenzio, con un gesto di grande pietà uno di questi ragazzi in silenzio mi indicò, ricordo un giaciglio e mi disse, questo è il tuo posto, fu il mio posto esattamente per 60 giorni e per 60 notti. Il racconto di Tortora fa venire la pelle d'oca, soprattutto se si pensa a come andò a finire tutta questa vicenda. Il 15 settembre 1986, dopo 1185 giorni dall'inizio della sua odissea, Enzo Tortora viene assolto in appello con formula piena. Il 17 giugno 1987, la Cassazione conferma questo verdetto d'appello. L'anno dopo, Tortora muore, aveva appena chiesto risarcimento per la responsabilità dei giudici, non gli è stato mai riconosciuto e addirittura il CSM archiviò il caso non ritenendo responsabili i magistrati. Ma andiamo avanti con il documento. E questa è la mia droga, qui ne potete trovare a quintali, è l'unica droga della quale faccio uso personale e spaccio molto intenso. Sono i miei libri che ho acquistato nel corso dei miei vagabondaggi malavitosi. Sono interessi un po' singolari, lo confesso, per un boss della malavita, ma tant'è io amo leggere, moltissimo, faccio le ore piccole leggendo. Ora poi ho avuto modo di rileggermeli tutti, la cultura politica, con Silone, con Rosselli, con Amendola, poi ci sono i libri di narrativa, adoro Sciascia, adoro Calvino, ci sono libri di psicologia, mi interessa molto Freud, mi interessa molto Jung, ci sono anche libri di diritto naturalmente, e quei libri vecchi che dicono l'Italia essere la culla del diritto, stiamo diventando la bara del diritto. Ricorderete quella vecchia immagine serena della giustizia, una figura femminile con una bilancia, i cui due piatti erano in perfetto equilibrio. Bene, non è vero, basta oggi gettare su uno dei due piatti la parola di un criminale, di un infame, di un cosiddetto pentito, ed ecco che la bilancia assume immediatamente questa forma. Pesa la parola del pentito, pesa per anni e anni, e l'altro piatto, con sopra un uomo onesto e innocente, entra in un tunnel di disperazione, di attesa di un giudizio, che può protrarsi per 11 anni e rotti, noi non facciamo mai caso agli spiccioli, soprattutto quelli che la galera non la conoscono. E allora, in questo tunnel di morte e di disperazione, bisogna dire addio, addio a Via dei Piatti 8, addio alle care persone che ti hanno visto vivere da uomo onesto per tanto tempo. Ma no, ma no, ma dai, non dite queste roghe. Lei non ha mai visto la droga in mano? Ma cosa vuoi vedere la droga in mano? Un signore... E secondo lei la usa? Usava la droga? No, mai no, perché è troppo sereno, troppo... Io lo conosco, veniva a casa nostra a pranzo, è un uomo... Quanti anni fa? Tanti anni fa, ma poi l'ho seguito sempre, lui mi ha sempre seguito anche a me, perché sapevo... Lui sapeva che aveva da fare con un uomo onesto come me e io, oltrettanto, ero per lui. Ma per me è una persona onesta, non è niente vero di quello che dicono. Non è una persona come hanno detto sui giornali. Lei non si fa prendere dall'affetto che ha... No, 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 assolutamente, assolutamente è la verità. Non è perché io ho l'affetto perché lavoro qui e perché proprio è una persona onesta. Assolutamente non è vero di quello che dicono. Pensare che di là della porta ci sia una sorta di galera è una cosa che chiude il cuore, anche perché potrebbe essere toccato a me invece che a lui. Il vicino di casa ha fatto delle cose mostruose, ma per carità, andava a letto alle nove e mezza, aveva dei problemi qualche volta di dieta, proprio impossibile. Una cosa che non ho mai creduto, ma non credo nemmeno adesso. Per me ero una persona normalissima, che al mattino usciva di casa, prendeva il giornale, andava al parco a fare futico con la sua tuta e quando ritornava andava su in casa e poi pomeriggio magari usciva di nuovo per prendere i giornali e poi ritornava in casa e poi io non lo vedevo più perché stava in casa e faceva una vita molto semplice. E questo è il mio astuccio, lo chiamo così, è un astuccio, ha più o meno le dimensioni di una cella dove ho vissuto per sette mesi. Soltanto per fortuna è foderato, tappezzato nei miei soliti cari vecchi amici libri. Qui c'è Stendhal, qui ci sono gli autori russi, qui ci sono tantissimi studiosi di cultura politica. È però lo studio del commendatore, perché io trascuravo di dirvi una cosa, a marzo, poco prima che mi arrestassero, quindi dell'anno scorso, venne nello studio di Portobello un incaricato, credo, della prefettura, accompagnato da un carabiniere, mi consegnò una pergamena, l'ho messa adesso in toilette, nella quale mi veniva comunicato che venivo nominato commendatore della Repubblica per meriti speciali e non me l'aspettavo, chiesi quali fossero questi meriti, mi risposero, ma come lei ha fatto la raccolta per il cancro in televisione 4 miliardi e mezzo per la lotta contro il male del secolo, ha raccolto 2 miliardi e mezzo per i terremotati dell'Irpinia, quelli stessi che qualcuno mi ha accusato in modo infame di aver frodato pubblicando una lettera anonima, altra delle pagine ignobili che ho scorso nel corso di questi tempi e mi dissero quindi lei è commendatore perbacco e si scusarono, annunciamo la cosa un po' in ritardo, ma lei capisce, abbiamo dovuto fare delle indagini, quando mi scattarono le manette ai polsi, lessi sui giornali che prima di farle scattare erano state fatte delle attente indagini, allora mi domando, com'è possibile che queste due indagini non si siano incrociate e non abbiano visto che questo commendatore era in realtà un boss della malavita, ma sono i misteri italiani sui quali è forse inutile indagare, sto qui, leggo ore ed ore come potete immaginare, ho la mia droga, ecco a proposito, questo è tabacco da fiuto, sì quello vecchio che si usava nel 700, Voltaire, Napoleone, qualche parroco, qualche vecchietto attualmente usa ancora il Santa Giustina, ne sono da quando ho smesso di fumare circa 10 anni fa, così è uno stravagante consumatore, i tabaccai milanesi lo sanno, mi conoscono perfettamente, leggevo l'altro giorno perché ho qui i giornali un uomo politico che diceva, no, è uno degli imbecilli che onorano la scena tanti, politica italiana e diceva, escludo assolutamente che Tortora sia spacciatore di stupefacenti, non escludo che possa farne uso come tanti nel mondo dello spettacolo, frase imbecille se mai ce n'è una, perché potrei replicare a questo stolto personaggio che come posso escludere allora io che la classe politica o lui stesso, non intendo farne il nome, alla sera si vesta, che so, da subret e vada a letto con un gorilla, non lo so, se ci mettiamo a fare ipotesi così farmeticanti, credo che anche la classe politica e non soltanto il mondo dello spettacolo possa essere sospettata di quello che non può essere né provato né in alcun modo verificato, perché io uso soltanto questo tipo di stupefacente, questo e i miei libri, qui ci sono, ecco sì, forse questo è vero, è l'unico punto di incontro del sottoscritto con la camorra, la mia macchina da scrivere sulla quale ho tempestato, grandinato migliaia di articoli per anni e anni, quando ero inviato alla Nazione e al resto del Carlino, quando ho scritto parole di fuoco, sono ancora, ci sono, strano, questo paese è in memore, soprattutto per certi giornalisti, articoli di fuoco contro la camorra e contro tutte le camorre. E a proposito di giornali, leggevo l'ultima di tre giorni fa, uno dei farabutti, perché io assisto alla moltiplicazione dei pentiti, poi alla divisione, perché si pentono di essersi pentiti, si ripentono, si pentono di nuovo, fuggono, ritrattano, ci sono dei pentiti che invece mi scagionano, ma quelli evidentemente non sono interessanti e non presi in considerazione, l'ultimo, dicevo, dei farabutti, quello che mi tenne in carcere con una testimonianza altamente probatoria, un noto pittore, l'altro giorno pubblica clamorosa ritratazione del pittore XY, non intendo fargli pubblicità, perdonami Tortola, mi dice perdonami, dovrà farsi perdonare della sua coscienza, lo spacciatore che ho visto sostenne di avermi visto in una televisione privata mentre spacciavo droga, l'uomo che ho visto quel giorno non eri tu e dice che era un altro, era un altro perché ripensandoci, pensate a quali uomini oggi è affidata la sorte di un galantuomo, dice che ripensandoci quell'uomo aveva un altro vestito e ingoiamo anche questa, una ritratazione schifosa come la denuncia, strano, semplicemente un effetto ottico basato sul vestito, mi pareva che costui avesse detto dell'altro. Il dottor aveva dei modi molto sbrigativi, dei modi che non erano quelli del presentatore, di spiego, dei modi di uomo duro, di uomo un po', diciamo non voglio usare un termine boss, ma un po' con una carica, mi spiego che non era del Tortola che quasi quasi benediceva la gente, no, non era lui, era lui ma non era lui. Ecco, questa è la stanza del riposo, quando il riposo arriva naturalmente e difficilmente arriva durante e dopo un'avventura come questa, sono ancora quei fusi della prigione, il sonno mi coglie nelle ore più strane, l'appetito non c'è quasi più e questa è la stanza da letto, sì, non mi pare particolarmente sontuosa, questo è il telefono sul comodino dove qualche giorno fa arrivò a spezzare una condizione spirituale molto depressa, la telefonata di Marco Pannella, quello è proprio il telefono con il quale Marco mi diede questa possibilità, possibilità che io non considero solo politica, ma possibilità che io considero essenziale, non soltanto per ridarmi la possibilità di battermi, di interrompere quella cura del sonno che molti educatamente con il Zeviri consigli mi consigliavano, perché questo non è un programma su o per Enzo Tortora, vorrei fosse chiaro nel cuore e nella mente di ciascuno di voi, questo è un programma sulle ingiustizie della giustizia, non mi parlate di vilipendi o attacco alla magistratura, credo che non debba essere solo privilegio dei cosiddetti pentiti collaborare con la giustizia, credo di battermi per una giustizia più giusta, credo di farlo con una conoscenza del problema, tremenda, problema che potrebbe domani interessare e travolgere ciascuno di voi, penso quello che dico e dico quello che penso, non ho fatto altro tutta la mia vita, qualcuno ha detto difendendo Tortora, si parlava di alcuni giornalisti che ringrazio, si minaccia di incrinare la meritoria lotta contro la camorra, questo è un sofisma, se io dico portato in manette sotto la bomba al cobalto di non avere il cancro, di essere sano, di non avere niente, come continuo a ripetere in termini giudiziari, non credo che si vilipenda la medicina, al massimo si può parlare di errore di diagnosi, ma non voglio nemmeno toccare, per rispetto ai giudici ai quali mi presenterò senz'altro, non voglio nemmeno toccare questo argomento dell'errore, parlo delle leggi e sono leggi inique, i magistrati applicano semplicemente delle leggi, non le creano, quelle che una classe politica ha lasciato a muffire e non era muffa, era sangue, era dolore, era angoscia per migliaia di giovani, di anziani, di uomini che domani potreste essere voi, queste leggi vanno cambiate radicalmente, cambiate i codici, cambiate il rito che viene definito inquisitorio con sapore medievale, che praticamente vi confina in questo tunnel che non finisce mai, non potete dire a un uomo oltre la decenza aspetta, no, non è più tollerabile, non è più pensabile, il sonno continui per chi vuole avere il sonno, io l'ho chiamata camera da letto, ma dormo molto poco qui, io penso, penso a quello che ho visto e mi batterò con i radicali per evitare che quello che ho visto io dobbiate vedere domani voi.